Kingpin. Potrebbe non esserci molto da dire su di lui, ma Wilson Fisk ha dimostrato di essere non solo uno dei più brillanti e spietati boss criminali che il mondo dei fumetti abbia mai visto, ma anche un fisico in grado di combattere alcuni degli eroi più forti della Marvel. Vittima di bullismo nella sua infanzia a causa del suo peso, Fisk ha iniziato a fare palestra e a trasformare così i suoi ex bulli in scagnozzi per iniziare la sua salita verso i piani alti della malavita, lasciando che i suoi pugni e il suo ingegno parlassero per lui. Non fatevi ingannare dalla mancanza di armi, Kingpin preferisce uccidere Maniude o usando qualsiasi cosa ci sia nelle vicinanze. Egli non è un supercriminale, ma un uomo che utilizza il suo talento per la criminalità organizzata. Chi, se non lui, può battere in una lotta a mani nude Daredevil e Spider-Man?